Erba alta, rifiuti abbandonati e segnaletica pericolante. Da fiore all'occhiello del quartiere, in pochi mesi il giardino di via Arturo Viligiardi ad Acilia è finito nel degrado. Della questione si è interessata una nuova associazione del territorio che si sta battendo per la riqualificazione del parco. Riteniamo sia inaccettabile che i nostri punti verdi vengano curati solamente quando bisogna fare delle passerelle politiche. I bambini di questa zona non possono soffrire dei giochi perché i giochi sono sommersi dall'erba, più che nel decimo municipio sembra di stare nella savana. Abbiamo delle problematiche serie anche per l'accesso secondario a questo parco. Questa stradina è sopra a un fiumiciattolo, al canale di scolo che però è in totale stato di abbandono e per cui i cittadini rischiano seriamente di caderci dentro. Il giardino era stato intitolato lo scorso 15 marzo alla memoria di Marco Trani, storico DJ originario di Casal Palocco che tra gli anni 70 e 80 è stato un vero e proprio pioniere della musica funk e disco. I ragazzi del quartiere spingono affinché in questo piccolo polmone verde vengano organizzati concerti e iniziative ricreative per i giovani. Io ero molto amico di Marco, facendo il disgio che abbiamo fatto parecchie serate insieme. È stato molto bello vedere questo parco intitolato a lui, però vederlo così è un gran peccato, anche perché come hanno detto questi ragazzi, anche i bambini non possono venire a giocare. Qui questo è un posto anche di ritrovo, di aggregazione. Abbiamo fatto varie segnalazioni e qualche volta sono venuti a sistemare, però spesso si scordano. Il nostro auspicio come associazione è che dopo essere stato ripristinato il decoro in questo parco, questo spazio possa essere utilizzato per fare delle iniziative di aggregazione dei giovani. Oltre agli interventi di manutenzione e alla programmazione di eventi, i residenti chiedono la messa in sicurezza dell'area, che rimane aperta H24 e spesso diviene teatro del bivacco notturno di giovani annoiati. La sera purtroppo, non essendo chiuso ai cittadini, è frequentato da persone raccomandabili che possono mettere in pericolo la zona circostante. Vorremmo che quindi fosse riqualificato, rimesso in sicurezza e soprattutto che fosse chiuso la sera. Abbiamo sentito l'assessora all'ambiente Valentina Prodon, che ha replicato. L'area è inserita nel programma degli sfalci, non abbandoneremo il giardino, che abbiamo fortemente voluto intitolare a Marco Trani, primo DJ a ottenere questo onore. In occasione della Festa della Musica, lo scorso 21 giugno, abbiamo organizzato lì l'evento Roma Caput Disco. Stiamo lavorando per pianificare altre iniziative con la collaborazione dei cittadini.